Giorgio Perlaska, classe 1910 di Padova, nel 44 fingendosi console generale spagnolo, salvò la vita di oltre 5.000 ebrei ungheresi, strappandoli alla deportazione nazista e alla Shoah. Un uomo giusto, un eroe nazionale, come disse Giovanni Minoli, che raccontò la sua incredibile storia. Perlaska nel 42 lavorava in Ungheria, Budapest in qualità di venditore, per una ditta italiana con permesso diplomatico. Il giorno dell'armistizio però rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale, per questo motivo fu arrestato, internato e cercò rifugio presso l'ambasciata spagnola. Il console spagnolo lasciò Budapest in Ungheria, Perlaska a quel punto decise di restare e spacciarsi per il sostituto del console partente all'insaputa dello stesso e della Spagna. Da quel momento però Perlaska si trovò a gestire il traffico e la sopravvivenza di migliaia di ebrei nascosti nell'ambasciata e nelle case protette sparse per la città. Perlaska rilasciò migliaia di finti salvacondotti che conferirono la cittadinanza spagnola agli ebrei, arrivando a strappare letteralmente dalle mani delle croci frecciate i deportati sui binari delle stazioni ferroviarie. Questa incredibile storia ora viene raccontata dal figlio, nelle scuole italiane, ed oggi era alla scuola Gandilio, a Fano. Se non fosse stato per alcune donne ebrei ungheresi che lo ritrovarono a fine degli anni Ottanta, la sua storia sarebbe andata dispersa. A me ha lasciato ovviamente questa avventura sia in Ungheria sia dopo un grande segno, mi ha cambiato un po' la vita se posso dire. Ovviamente io sono orgoglioso come figlio di quello che ha fatto mio padre, ma soprattutto sto cercando di portare in giro questa storia e altre storie similari, non tanto per raccontare la storia di una persona, ma per raccontare delle storie che possono insegnare qualcosa di importante a noi tutti, specialmente ai ragazzi, fare del bene senza aspettarsi di avere qualcosa in cambio. È una pagina veramente importante perché io faccio mia una frase che è stata detta da un giornalista di Fano durante la conferenza stampa, che avere direttamente una fonte storica è un'attività importantissima per i ragazzi, soprattutto perché, come ha già avuto modo di sentire dalle parole di Franco Perlasca, avere una persona che racconti quello che ha vissuto, seppur indirettamente, è una cosa bellissima, emozionante per i ragazzi. Perlasca, uomo giusto e semplice. A chi gli chiese, ma perché ha fatto tutto questo? Lui rispose, perché voi non l'avreste fatto? Perlasca, uomo giusto.